ragazzi benvenuti da 9mila giri oggi luca mi ha fatto saltare il pranzo per cui il quadretto che vi vado a dipingere è così composto viaggio da altra sede altro cliente a sede 9mila giri con pasquale di fianco che si è mangiato una barretta perché a dieta la barretta era le dimensioni di una supposta di glicerina io non so come fa io invece mi sono pappato una bella vaschetta di verdure di pinzimonio scadute che mia moglie mi ha detto te le devi mangiare per cui si anche voleva vedere la foto della schicetta vuota per cui ti dico devi farmi passare questo nervoso e quest'ansia che ho adesso ti spiego un po di robe così ti dimentichi il cibo facciamo prima guarda che bello questo banchetto che hai preparato di cosa parliamo oggi ma io oggi farei un punto della situazione sul discorso assetto e freni se ti va bene tralasciamo il motore professore interroga oggi? sì interroga perché io non l'ho potuto studiare tre dietro la lavagna ti scusi per favore te Pascal dietro la lavagna via via vai spiegaci allora partiamo dall'assetto allora l'assetto diciamo si compone di tanti componenti quindi non è che uno dice normalmente assetto le molle di solito io faccio un riferimento su quello che normalmente sono i discorsi o le domande che ci fanno i nostri clienti l'assetto è composto da tante variabili che passano ovviamente attraverso le molle gli ammortizzatori ma che riguardano anche anche tante altre parti nascoste che possono essere le boccole dei braccetti le supporti motore le gomme i cerchi cioè è un insieme di componenti che rende una vettura più o meno sportiva il concetto perché chiaramente noi facciamo preparazione ottimizzazione diciamo sportive per noi quello che è importante è rendere una vettura stock più performante in questo caso a livello di tenuta di strada di piacere di guida di avere una vettura più precisa quindi di avere un qualche cosa di più rispetto al normale io direi partiamo dal discorso ammortizzatore che chiaramente molle ammortizzatori che la parte principale quindi da un punto di vista tecnico la molla la vettura la scocca della vettura può staticamente parlando stare in piedi diciamo anche solo con le molle cioè se io togliesse gli ammortizzatori dalla scocca la macchina rimane staticamente ferma l'ammortizzatore è un elemento elastico uguale contrario rispetto alla molla la molla serve per attenuare lo schiacciamento della della scocca dal basso verso l'alto l'ammortizzatore serve per contrastare questo sistema nel senso se non avessi l'ammortizzatore la macchina prende un avvallamento rimbalza come un materasso per mezz'ora quindi ovviamente io devo avere un contrasto omogeneo quindi c'è uno studio in funzione dei chili che esprime la molla e del grado di compressione e rito e freno diciamo si ritorna riposo si chiama freno dell'ammortizzatore per contrastare questo questo sistema allora per una macchina stock ovviamente hanno ovviamente molle ammortizzatori normalmente tratti su un utilizzo turistico cioè turistico non eccessivamente sportivo perché le macchine anche che sia una macchina particolare macchine tipo non so un gt3 rs che ovviamente ha una impostazione tipicamente corsaiola però ecco macchine anche tipo un s un audi s3 anche una stessa bmw m3 o da lì a scendere comunque devono mantenere da un punto di vista di marketing e commerciale un utilizzo che vada bene anche signora la persona non per non particolari belleità diciamo pistaiole o agonistiche quindi da lì si può intervenire per cercare di ottimizzare questo sistema per avere appunto per dare al cliente un piacere di guida superiore rispetto a quello che normalmente lui avrebbe utilizzando la macchina di serie quindi principalmente si utilizzano delle molle sportive che sono più basse quindi questa è una molla sportiva in questo caso di una mercedes purtroppo non ho il riferimento della molla stock purtroppo quindi ti faccio un escursus senza avere riferimento comunque se io prendessi la molla di serie della stessa macchina questa mi sembra che sia una classe c se non mi ricordo male quella di serie è più alta cioè ha un e poi non solo più alta ma anche una distanza tra le spire le fatte in maniera differente normalmente sono più la distanza che detta la maggior rigidità dell'ammortizzatore della molla o è anche il filo è anche il diametro del fido e il materiale queste molle qua sono in acciaio cromo silicio quindi sono elastiche lo sono anche quelle di serie però è anche la tipologia del materiale e soprattutto il filo cioè lo spessore del filo e ovviamente anche al di là dell'altezza perché questa è una molla che viene ritorta quindi non è una cosa molto semplice c'è un filo di di acciaio che viene ritordo con un macchinario particolare la distanza tra le spire crea anche in questo caso un comportamento differente più sono vicine fra loro e più la molla è rigida hai difficoltà a comprimerla ovviamente questo da un punto di vista tecnico sulle molle ovviamente andando a cambiare le molle cosa faccio vado ad abbassare la scocca vado ad abbassare il baricentro quindi normalmente noi utilizziamo sempre molle non eccessivamente basse sconsigliamo ai clienti di fare assetti da da goccard da pista perché per un utilizzo quotidiano noi siamo a milano utilizzo quotidiano fra le buche il pavè altre cose se io faccio una macchina troppo rigida non va bene cioè al di là del fatto che sarebbe veramente scomodo io personalmente un intanto un mal di schiena quant'altro luca tra l'altro anche nel racing non è che la macchina rigida rigida è più efficace di un esatto la macchina poi va a non copiare il terreno per cui assolutamente però sai è un concetto cioè devi spiegarle queste cose perché normalmente la prima domanda che mi fanno voglio una macchina che è rigida come una tavola allora devi stare lì a spiegargli che non è che soprattutto per l'utilizzo da un punto di vista di performance e anche da un punto di vista se vogliamo di comfort bisogna trovare i giusti compromessi oltretutto se fare una tavola l'energia cinetica che si scarica si scarica sul telaio della macchina quindi anche quello dopo un pochino va a incidere sul resto del componente anche quello saldature i duomi quant'altro si deteriorano quindi la molla sostanzialmente serve per abbassare il bariceto noi normalmente utilizziamo delle molle compatibili volendo compatibili con l'ammortizzatore originale quindi in extremis non è tecnicamente quello il lavoro migliore perché per fare una cosa fatta in maniera adeguata devi sostituire molle ammortizzatori cioè mettere un ammortizzatore il famoso contrasto che dicevo prima con uno stelo più basso rispetto all'ammortizzatore di serie anche in questo caso non ho il riferimento dell'ammortizzatore di serie comunque uno stelo più basso una conformazione idraulica diversa a volte abbiamo un bitubo lo portiamo a monotubo la dimensione stessa dello stelo è completamente diversa questo è il primo ammortizzatore che ho trovato fra l'altro un ammortizzatore di formula 1 non c'entra assolutamente niente era dalla macchina di Villeneuve questo qua ma giusto per capire com'è l'idraulica quindi un ammortizzatore sportivo noi di solito utilizziamo dei Bilsen B8 che hanno appunto uno stelo decisamente più grande rispetto a quello di serie hanno un'idraulica diversa monotubo bitubo e hanno uno stelo più basso per accorparsi alla molla è ovvio che in questo discorso tante volte bisogna anche fare i conti con l'oste cioè nei conti con la disponibilità economica dei clienti ai quali dico che normalmente non hanno molti soldi da spendere ai quali dico spesso io ti posso montare anche solo la molla a condizione che lo stato di usura dell'ammortizzatore non sia oltre un certo livello perché se ti vado a montare una molla più bassa il famoso contrasto se già vicino al fine vita non riesce a contrastare i chilogrammetri della molla e quindi la macchina tenderebbe poi a rimbalzare quindi gli andrei a creare un problema non un vantaggio quindi se la macchina ha un chilometraggio intorno ai 50-60 non oltre gli 80.000 km già 80.000 sono un po' tanti noi consigliamo di possiamo montare solamente le molle viceversa diciamo al cliente o non fai niente o se no fai l'abbinamento molla ammortizzatore questa è un po' la sostanza poi entrando sempre nel merito poi finiamo il discorso ammortizzatori abbiamo sostanzialmente due proponiamo due soluzioni o il classico pacchetto molla ammortizzatore separato poi ci sono le conformazioni in McPherson ci sono determinate conformazioni alla molla separata l'ammortizzatore la molla fulcrata all'interno dell'ammortizzatore fulcrato all'interno della molla però sono sempre componenti separati oppure si utilizza un sistema tipo questo facciamo l'esempio che è la stessa cosa però la molla è infulcrata direttamente sullo stelo dell'ammortizzatore e in questo caso otteniamo lo stesso risultato con in più il vantaggio che la molla poggia non sul piattello adesso questo non è un McPherson però se prendessi un McPherson ho il piattello portamolla inferiore dove poggiano le spire della molla la parte superiore tocca dentro nel duomo e ok in questo caso non ho il piattello inferiore dell'ammortizzatore ho delle ghiere quindi la molla sarà molto più stretta molto più piccola rispetto alla stessa molla che monto separatamente poggia su delle ghiera e controghiera che lavorano su una barra filettata senza fine a questo punto io diciamo che muovendo queste ghiere vado a comprimere, vado a precaricare la molla quindi ho un certo tipo di regola cioè precarico la molla per cui ho già posso variare la tarattura della molla in più entro certi limiti posso anche lavorare anche sull'altezza della macchina entro certi limiti sto parlando di qualche centimetro, uno o due centimetri e questa è la prima caratteristica di un amortizzatore di questo tipo la seconda non è, questo ammortizzatore ne ho un altro in vetrina, c'è in più la possibilità con un tipo di ammortizzatore diverso che si chiama PSS 10 o 9 dipende dai click di regolazione di regolare anche la compressione e l'estensione dell'ammortizzatore così facendo tu hai praticamente oltre alla tarattura sportiva che è intrinseca nell'ammortizzatore tre possibilità di regolazione ulteriore cioè il precarico molla, la compressione e l'estensione dell'ammortizzatore non dico che diventa un ammortizzatore diciamo di derivazione agonistica cioè quelli che poi chiaramente hanno tante altre variabili non è solo questo però diciamo avere tre regolazioni di questo tipo fai un bel passo avanti ovviamente non è diciamo da tutti mettersi lì sotto la macchina il ponte diciamo che normalmente quando noi andiamo ammortizzatore di questo tipo diciamo al cliente noi te li montiamo fai un 1000-2000 km di rodaggio, ritorni da noi, ricontrolliamo mi dici quali sono le tue impressioni, lo andiamo a risettare poi normalmente l'ammortizzatore rimane così a volte capita, siccome la regolazione ha una ghirettina qua sotto dove uno fa i click questo è il vantaggio che è molto semplice basta mettere la mano sotto dove c'è la parte inferiore dell'ammortizzatore uno la utilizza a livello stradale, va a Monza a farsi il suo girettino clicca, comprime la compressione, estensione l'ammortizzatore diventa immediatamente più secco poi riesce da Monza se lo rimette stradale quindi diciamo che la variabile può essere questa ovviamente anche a livello economico una soluzione di questo genere costa chiaramente di più però dipende dalle esigenze che il cliente vuole avere dalla macchina ok mi sembra di capire Luca come sempre che le modalità di sostituzione di questi componenti tipo a mio cugino è meglio evitarle, meglio come sempre affidarsi a chi questo lavoro lo fa da tanti anni spiega il perché certe cose, arriva a dare dei consigli che poi si traducono in efficienza ed efficacia del mezzo che guiderete tutti i giorni in pista dove vorrete voi però sicuramente questo è il vantaggio mi dici i prezzi a partire da questo tipo di operazioni? allora un concetto che noi usiamo solo molle componenti top quality cioè utilizziamo prevalentemente su queste molle della Carson però diciamo noi normalmente usiamo molle della Eibac e ammortizzatore della Bilstein come pacchetto di prodotti un kit di molle dipende dal tipo di macchina andiamo dai 250 euro ai 350 sempre senza mano d'opera un kit di ammortizzatori separati che siano B6 o B8 dipende dalle macchine andiamo sui 750-800 euro i due tipi di kit filettati che sono i B14 che sono solo con la regolazione precarico molla più o meno e come la sommatoria costano più o meno come la sommatoria fra la somma di ammortizzatori e molle il PSS 16 che ha la regolazione di 10 click costa decisamente di più normalmente sono assetti che vanno sui 1500-1600 euro questo è un po' range sempre più la mano d'opera ovviamente il montaggio di questi ammortizzatori è un pochino più lungo perché per fare un lavoro professionale bisogna pesare con la bilancia bisogna fare una taratura diciamo del peso su ogni ruota per avere la giusta calibrazione su tutte e quattro le ruote perfetto quando hai imparato il peso mi hai guardato in maniera strana tu hai mangiato la... allora Luca ci vediamo per i prossimi servizi che riguarderanno freni vedo sì volevo solo finire due cose sull'assetto nel senso che questo era il pacchetto molla ammortizzatori per completare velocemente tralasciando il discorso pressione delle gomme che anche quelli incide cioè sono cose che più diciamo marginali per completare il discorso assetto noi possiamo aggiungere un discorso di rigidimento dell'avantreno con una barra d'uomi si chiamano barre d'uomi che possono essere superi questa è una barra d'uomi superiore che chiude il quadrilatero delle geometrie anteriore o inferiori che chiude la parte sotto ci sono in questo caso non ce l'ho da farvi vedere delle barre antirollio in questo caso sono tutte le macchine hanno queste barre che chiudono i due che sono che collegano i due puntoni inferiori dei ammortizzatori quindi in questo caso con una sezione solamente una barra la cui differenza è una sezione diversa del diciamo del diametro e ultima cosa che anche questo può incidere tutto quello che sono diciamo la componente elastica cioè il supporti motore i supporti dei braccetti cioè tutto quello che sono le componenti diciamo in gomma che normalmente viene utilizzata una gomma standard ci sono delle ditte questa è la power flex che vende lo stesso componente fatta in poliuretano molto più rigido con determinati percentuali di rigidità che possono essere il più 40 per cento più 60 per cento ultime qui mi fermo può incidere anche questo leggermente sull'assetto più sull'estetica che non sull'assetto spostare la misura cioè spostare all'esterno il gruppo gomma cerchio con dei piatelli distanziali in questo caso chiediamo al cliente di passare con la macchina si fa una misura col calibro della misura utile e portiamo la gomma più a filo del passaruota in questo caso è molto uno fattore estetico però anche questo incide perché noi spostiamo leggermente di qualche centimetro il punto di attacco sull'aggancio dell'ammortizzatore quindi anche questo determina un inserimento in curva un pochino più reattivo e normalmente un ammorbidimento dell'ammortizzatore io qua ho finito perfetto Luca allora ci vediamo alla prossima puntata per parlare di freni grazie ok